come risolvere così gli aggiornamenti riguardo a Windows Update se avete problemi ad aggiornare così all'ultima versione su Windows Update come potete vedere io sto scaricando e installando gli ultimi aggiornamenti rilasciati dalla Microsoft e ovviamente se avete problemi su Windows Update che non ve li fa installare oppure scaricare e installare c'è sempre il sito Microsoft Update Catalog come puoi vedere l'aggiornamento del 12 marzo quindi versione 23H2 basati su RM64 come puoi vedere lo stesso aggiornamento del KB5035853 che è uguale a questo qua quindi l'aggiornamento è uscito anche su questo catalogo come ho detto se avete problemi a scaricare e installare gli aggiornamenti qua sopra ci sono gli aggiornamenti sul catalogo quindi in questo caso se ti esce un errore qua sopra fai copia quindi copia così questo aggiornamento mi raccomando senza la parentesi eccolo qua mi ha preso anche la parentesi e fai ricerca ed eccoli qua come scaricarli? download andiamo a scaricarli qua sopra mi raccomando l'aggiornamento deve finire come .ms o se no non si installa niente non esce il pacchetto che devi installare sul tuo pc quindi scarichi l'aggiornamento non ho scaricato così l'aggiornamento andiamo a prendere il nostro aggiornamento ed eccolo qua eseguiamolo come amministratore se ce lo fai eseguere oppure clicchiamoci sopra direttamente preparazione e installazione in corso programma di installazione Windows update out impossibile applicare l'aggiornamento al computer ovviamente come potete vedere mi ha già scaricato e installato l'aggiornamento sul pc quindi mi chiede il riavvio in sospeso tutto completato quindi quello che mi resta da fare una volta che ti ha cercato così il tuo aggiornamento non ti resta che aspettare l'installazione e basta è finito e riavvi il tuo sistema per altri problemi commenta sotto al video io adesso riavvio così il sistema e completo così gli ultimi aggiornamenti che ho fatto su Windows update quindi il catalogo è veramente comodissimo puoi cercare qualsiasi aggiornamento che puoi fare sul tuo Windows 10 o Windows 11 quindi grazie a tutti per questa versione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao